Il contribuente giolese è trattato a pesci in faccia dalla società di discussione proprio nel momento in cui, grazie alla definizione agevolata dei ruoli in scadenza il 31 marzo prossimo, centinaia di cittadini tentano di conoscere i propri carichi al ruolo e come possono definirli. Non usa giri di parole Giulio Cordaro, presidente della Libera Associazione Consumatori della provincia di Caltanissetta. Il cittadino è obbligato a fare ben quattro file, la prima per conoscere l'ammontare del versamento da fare per ottenere l'estratto ruolo, la seconda per presentare l'istanza per chiedere l'estratto ruolo, la terza per andare a ritirare, dopo circa 15 giorni proveniente da Caltanissetta, l'estratto ruolo, la quarta per presentare l'istanza di definizione agevolata. Naturalmente, per complicare la vita ai contribuenti, le menti eccelse di discussione sicilia, rincara Cordaro, accettano il pagamento con Bancomat solo per pagare cartelle, ma non per pagare i pochi euro dovuti per il rilascio dell'estratto ruolo. Il colmo si è però verificato in questi giorni, dopo che i vertici palermitani hanno ridotto gli orari di apertura dello sportello di Gela da 5 a 2 soli giorni alla settimana, il martedì e il giovedì. 11 ore settimanali di apertura e ovviamente lunghe file e cittadini che si mettono in fila già alle 6 del mattino. La Libera Associazione Consumatori della provincia di Caltanissetta chiede con forza a Discussione Sicilia di rispettare i contribuenti che meritano di non essere trattati come pecore o come carne da macello. Chiede quindi che lo sportello di Gela venga immediatamente riaperto per 5 giorni alla settimana e che il personale, in atto una sola unità, venga adeguatamente impinguato così da offrire ai cittadini un servizio veloce e dignitoso. È considerato che i servizi resi da Discussione Sicilia sono servizi pubblici in caso di mancata attivazione, chiude Cordaro, non esiteremo a denunciare all'autorità giudiziaria i vertici di Discussione Sicilia per il reato di interruzione di pubblico servizio. E il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Gela, in merito proprio ai disagi denunciati, non riesce a comprendere come nel comune più grande della provincia, in termini di utenti e di volume percentuale di discussione dei tributi rispetto all'intera provincia, sia possibile avere due soli impiegati, spesso non contemporaneamente presenti per motivi di salute o altro. In questo particolare momento di afflusso consistente di utenti, aggrava alla situazione dell'Ufficio di Gela la mancanza di personale qualificato. Il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti, ricamandosi ai diritti costituzionali dei cittadini, sollecita provvedimenti urgenti da parte della direzione al fine di rafforzare la presenza di impiegati nello sportello di via Marsala, per evitare che professionisti ed utenti siano spinti indirettamente a rivolgersi agli sportelli di Caltanissetta, con aggravio di spese a carico di ciascuno. Della vicenda sono stati informati il prefetto e il sindaco di Gela.